Nel derby dello Spoletini, giocato a porte chiuse per decisione della questura di Perugia, a causa di alcune inadeguatezze dell'impianto locale, il Canara batte il Foligno per 1-0 grazie al guizzo in avvio del bomber Bazzofia. La reazione degli uomini di Armillen nel prosegue stato del match è stata volenterosa, ma i falchetti hanno sbattuto contro la solidità dei padroni di casa che fanno loro questa sfida per pochi intimi. Canara che parte molto forte, squadra aggressiva e pressing asfissiante che mettono in difficoltà il Foligno. Già al nono la gara si sblocca, lancio filtrante di giorni per Bazzofia che con uno stop sublime e un movimento di corpo velenoso disorienta i difensori di Folignati e tu per tu con Ruani non fallisce. Foligno che accusa il corpo e presta ancora il fianco ai padroni di casa che volano sulle ali dell'entusiasmo. Al sedicesimo angolo di Mercurio è zuccato al centro aereo di Colombi, ma Ruani blocca. Al diciannovesimo invece è veloce di partenza con Del Sante che inesca al limite Bagnolo, ma il diagonale non sortisce esito. Piano piano il Foligno riesce a prendere maggiormente campo e percentuale di iniziativa, ma finisce per imbottigliarsi tra le ben serrate maglie rosso-blu. Le azioni più pericolose di Bianco Azzurri sono due. La prima al ventunesimo con Buonaventura che in mezza girata a volante impatta bene il corner calciatore Gorini, ma la sfera finisce a lato. Al trentanunesimo invece sul cross atteso dal fondo di Pettinelli, filosa nel tentativo di spazzare, sfiora il clamoroso autogol. Primo tempo che termina 1-0. Il copione del secondo tempo è sempre lo stesso. Foligno che prova a stazionare nella metà campo locale, ma senza trovare il ritmo e la velocità per creare pericoli veri. La prima occasione della ripresa al ventunesimo con Giannocchi di testa non inquadra il cross pennellato da Arras. Il Canarra tiene molto bene la pressione Folignate senza scomporsi e quando può si fa anche vivo. Al ventiduesimo Bazzoffi a calcio alto l'assist offerto da Del Sante. I bianco-azzurri di Armillei non riescono proprio a trovare spazi. Peluso al ventottesimo deve fare tutto da solo, ma la conclusione sfila a lato. Al trentaseiesimo invece Buonaventura riceve sempre da Peluso al limite. Si gira e tira, trovando però la risposta di Lory. Gli assalti del Foligno sono abbastanza disperati. Al quarantaduesimo sul lancio lungo Buonaventura trova la sponda che libera Arras, ma la conclusione del Sardo, che improvvisa una mezza rovesciata, non è efficace. Lo stesso Arras nelle battute finali viene espulso per somma di ammunizioni, doveva aver preso il secondo giallo per simulazione in aria. Fa festa quindi un Canarra solidissimo, mentre il Foligno incassa la terza sconfitta consecutiva. Anche oggi penso che abbiamo fatto una buona prestazione. Levate i primi 20 minuti, poi penso che c'è stata una sola squadra in campo che ha provato a fare la partita, a giocare, a recuperarla questa partita e non ci siamo riusciti. È vero che non abbiamo creato tantissimo, qualcosina abbiamo creato, però penso che levate i primi 20 minuti e poi la partita l'abbiamo fatta esclusivamente noi. Il primo tempo secondo me qualcosina ci abbiamo avuto, dopo sono stati bravi loro a difendersi per larghi tratti della partita, è arrivato i primi 20 minuti. Ripeto, poi il campo è piccolino, io qui lo conosco, non è facile. Purtroppo gli abbiamo concesso all'inizio l'occasione che l'ha messi nelle condizioni migliori per fare la loro partita. Sì, tre punti d'oro e sì, in indemoniato, perché alle volte se non fai così, visto l'esperienza di alcune partite dove abbiamo dei cali di tensione che non ci devono essere, allora cerco sempre di stimolarli, tenerli sul pezzo per evitare appunto delle pause come lo è stato domenica a Pomezia che poi ci ha penalizzato oltre misure. Dopo questo successo del derby ci mettiamo di nuovo a testa giù a lavorare perché non è che oggi il Cannara, se ieri non era una squadra di brocchi, oggi non è una squadra di fenomeni. Noi dobbiamo lavorare giorno per giorno con umiltà, testa bassa e cercare allenamento dopo allenamento di migliorare, cercare di colmare quelle che sono qualche pecca di gioventù, visto la squadra tanto giovane.